Uno brutto e uno bello. Uno stupido e uno intelligente. Chi è il primo? Non importa. Un giorno è il primo, l'altro è il primo. Il Gemelli Lavrinovich, cosa c'è il gioco? Ma dopo, cosa c'è il sentimento di essere qui di nuovo con le persone chiamando il tuo nome? Il Genellinovico. Sono venuto da Reggio e venuto a casa. Molta gente lo sceva. Dio e il ragazzi. Tiò disano come un figlio. È ritori. Per noi è una grande sorpresa. In nostra vita non c'è persone come oggi, vogliamo dire grazie a tutti che ci hanno dato questa atmosfera per noi. Stiamo sentendo molto strano, ma molto emozionale. Io ho chiesto qual è il tipo di approccio a tornare qui con la gente che canta il vostro nome e che vi applauso, ma è stato grande. Come tornare a casa? Ha detto Darius, siamo stati accolti come eroi e Shistov ha aggiunto, è veramente un'emozione vedere come il pubblico di Reggio ha accolto mio fratello. Ma anche Shistov ha fatto delle cose grandi in questa season, quando il tuo fratello era morto. Sì, ricordo. Grazie per te. No, è un'emozione di tempo. E ricordo ogni giorno qui. è un'emozione di qui. Ma quando il mio fratello è tornato, mi devo riuscire. No, non puoi rimanere. No, non puoi. No, non puoi. No, non puoi. No, non puoi. Grazie a tutti tutti di cui sono venuto qui attualmente. E ci hanno dato il nostro presente, il club. Grazie a Alessandro, la Della Salda, Frosini e Filippo. È un'emozione delle persone. non come professionale nel gioco, ma come persone è un gioco importante per noi, per la nostra squadra, perché abbiamo perduto un gioco importante, la nostra situazione è cambiata per noi, per i giocatori, per i giocatori di stress e questo è stato molto importante per i giocatori di credere in nostro lavoro, ora i giocatori di credere e per noi è molto importante, perché abbiamo e ora abbiamo una molto migliore chance di andare ad altri gruppi Mi ha chiesto che l'importanza ha questa partita, mi ha detto che è molto importante perché abbiamo cambiato coach, per noi era importante acquisire sicurezza e capire che potevamo fare grandi cose, vogliamo proseguire Schistro ha detto che mi dispiace per Max, però noi vogliamo davvero andare avanti Quindi, ogni persona fa un halà ai giocatori di Reggio che ti piace molto Io ti lascio il microfono per parlare sui giocatori Io ho detto dopo il giocatori, che in Reggio sono i migliori sono i migliori, sono i migliori, i migliori perché non ho mai visto i migliori i migliori i migliori come questi, che mi ricordano, che mi ricordano e mi chiedono, grazie per me e io ho detto che l'atmosfera è incredibile Grazie per tutti i migliori, che mi ricordano e io voglio dire buona fortuna e questo è un giocatore, il team è incredibile e non mi racconto, non mi racconto, non mi racconto o si gioca, o si gioca o si gioca, o si gioca Grazie per la tua carriera, il tuo gioco e spero che ci vediamo di nuovo Sì, la nostra carriera è crescita Sì, la tua carriera è crescita è un migliore, anche tu sei un migliore Buona fortuna, buona fortuna Sì, come Kose, ci vediamo nella prossima squadra Nella ultima squadra Speriamo di vederci alle top 16 e speriamo davvero Lorenzo a questo punto Insomma